Tu non puoi passare! Quelle gandalt tra centro e un cazzo con sta roba! Oh, ascolti, io non uso la forza, ma una ginocchiata di coglioni te la do! Lascia stare la mano culata! Eh, gira, gira! Guarda! No, ragazzi! Hai cominciato tu! Eh? Hai cominciato tu! Beh, guarda che dopo svelo cos'è... No, fermo! Dito... Dito culato! Oh, dito culo e mano palle! No, dai! Dito culo e mano palle, no! Ma sì! Con le stesse armi, eh! Ragazzi, vi lanci peli del cazzo! Attacchiamone uno! Attacchiamo lui! Tutti addosso a... Ah! 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 Non so più! Ho la sensazione di essere sporcato le mani con la sua maniera! Ma è finito il master marketing, eh! Sentite! Sentite giù le mani! Chi cavo? No! I peli di cazzo! Oddio! Oddio! Cosa è successo? Abbiamo parlato con l'arretore e ci sono peli di cazzo! No! Ti ho coperto il telefono con i miei peli del cazzo! Allora voglio che tu sappi una cosa! Ieri ti sei fumato una sigaretta che è stata nel mio culo! Eh! Fosse la prima volta! Cazzo! È il momento del filmare! Eh sì! Dopo lo mettiamo! No! Eh sì, Fabio! Allora, noi riteniamo che smettere di fumare sia importante! Assolutamente! Io fumavo come un pazzo da quando avevo 15 anni! Io ho smesso! Fumare uccide! Fumare uccide! E noi ci teniamo molto alla salute del nostro collega Fabio Alisei! Sì! Ha lasciato qua le sue sigarette! Queste fanno male! Queste uccidono! Guarda che schifo! Il fumo uccide! Allora noi per aiutarlo a smettere dobbiamo fare qualcosa di impatto! Esatto! Qualcosa che faccia capire che alla fine, cioè in qualche modo... Esatto! Noi adesso abbiamo aromatizzato la sigaretta di Fabio! Cosa facciamo con questa sigaretta adesso? Di merda! Sai che probabilmente col suo alito non se ne accolterà! La rimettiamola! La rimettiamola! Perfetto! Quale sarà? Ma! Sicuramente però dopo questa sigaretta forse smetterà di fumare! O perlomeno qualche schericchiacoli lo colpirà! Lo facciamo per amicizio! Sai che morirà di una malattia orribile trasmessa dalle feci? Però non morirà per colpa delle sigarette! Bravo! Hai capito? Una delle sigarette di ieri che ormai sono andate è entrata dritta nel mio buco! Senti la tristezza! Dalla mia così faccio il montaggio eh! Oh che schifo! Nella sigaretta è dronica! Il pelo di cazzo nel buco! Mamma mia! Fabio cosa c'hai? C'era anch'io un video! Di cosa? E' la tua sigaretta elettronica! Che cosa ha fatto? Eh beh no! Video per video! Nooo! Nooo! Va bene comunque per gli ascoltatori invece abbiamo preparato un montaggio! Questa è la saga completa di Guerre Stellari versione Zodii 105 con Leone di Lernia! Cosa c'hai Paolo? Ti ho infilato il pelo del cazzo dentro la sigla! No ragazzi non toccarmi mai la sigaretta elettronica! E' una nuova fragranza! E' schifo! Ma ragazzi io non posso... Ehi! E' il gusto peluto! Non ci sono dei profilatici per le labbra! Ehi! Questa cosa c'hai un gattante famoso! Sono dei profilatici per le labbra! Ehi! Sono dei profilatici per le labbra! Grazie a tutti.